Intervista a Sergio Fabbrini, scienziato politico e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla LUIS. In Germania la CDU dice no all'ultradestra di AFD e riprende il volo. Per battere i verdi lasce deve abbandonare l'austerity. Un messaggio anche per Salvini e Berlusconi. Senza europeismo non esiste federazione. Un muro da fortificare. Un altro da abbattere. Con la vittoria alle elezioni in Sassonia-Anhalt la CDU ritorna in pista per la corsa al cancellierato e prende le distanze dalla destra di Alternative für Deutschland, AFD. Un messaggio in codice per la Lega di Matteo Salvini che rimane in bilico fra popolari e sovranisti. europeisti ed euroscettici. Spiega formiche.net Sergio Fabbrini. Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS. Se vogliono battere i verdi, i democristiani devono ora lasciarsi alle spalle una vecchia passione. L'austerity. Chi profetizzava il suo declino deve ricredersi. La crescita di sei punti percentuali che l'ha portata al 36% non si può spiegare solo con la popolarità del premier Rainer Aseloff. Una parte dell'elettorato democristiano ha paura di AFD. Sta costruendo una barriera costituzionale contro l'ultradestra. Perché ha successo? In Sassonian Halt un elettore su 5 vota a destra. Al tempo stesso, il partito ha continuato a sostenere posizioni radicali ed euroscettiche. Come dimostra l'ostilità al Next Generation EU. C'è AFD alla base dei ricorsi che hanno costretto la Corte Costituzionale tedesca a sospendere il giudizio di costituzionalità sui fondi europei per la ripresa. Sono i postumi di una «normalizzazione» della DDR che non ha mai funzionato. Trent'anni fa l'unificazione fu pianificata in modo molto discutibile. Con il riassorbimento dei 5 land orientali nella Germania Ovest. Non è un caso se oggi la Germania orientale abbia una sensibilità politica simile ad alcune ex repubbliche sovietiche nell'Est Europa. Come l'Ungheria o la Polonia. Anche questi stati, nonostante la mole di fondi strutturali europei che ogni anno finisce nelle loro casse, non hanno mai accettato del tutto il processo di integrazione europea.